la prima cosa che dovreste fare per cominciare questo piccolo viaggio in un grande testo della letteratura una cosa di cui sentirete parlare milioni di volte andando a scuola diventando grandi non ci sarà un mese in cui magari non avrete di nuovo sentito nominare questo poema quest'opera letteraria e anche il suo autore ma tra poco ovviamente ve lo nomino io stesso però la prima cosa che dovreste fare è andare da mamma o da papà chiedere una moneta da due euro verificare che sia una moneta italiana perché sapete che la moneta euro è diffusa in tutta Europa e quindi ogni stato ogni nazione ha scelto un'immagine da fissare sulla moneta se è una moneta italiana voi troverete un volto sui due euro di profilo quindi messo così con un naso abbastanza pronunciato con una corona di alloro l'alloro è una pianta che si usa anche per gli arrosti ma spesso diciamo così ha un valore simbolico quando per esempio una sorella maggiore un fratello maggiore magari si sono laureati o si laureeranno è probabile che anche un po' per scherzo indosseranno appunto questa corona di alloro che indica la gloria in qualche modo la metteva giulio cesare l'hanno messa anche i grandi poeti della tradizione appunto quando uno diventa davvero importante davvero famoso almeno così era nell'antichità usava la corona di alloro e questo signore appunto ha un grosso naso molto pronunciato la corona di alloro un cappuccio perché aveva una tonaca di solito è rappresentato con una sorta di tonaca rossa con un cappuccio questo signore appunto si chiama dante alighieri è impossibile se si è nati in italia non avere a che fare con questo dante alighieri e quest'anno in particolare il 2021 si parla tantissimo di dante perché sono 700 anni dalla morte quindi lui è morto nel 1321 esattamente 700 anni fa che sembrano tanti ma poi non sono così tanti se pensate alla storia dell'universo 700 anni fa e come l'altro ieri perché ci ricordiamo di questo signore toscano nato a firenze appunto parecchio tempo fa ci ricordiamo di lui perché è stato il più grande poeta forse di tutti i tempi almeno il più grande poeta di tutti i tempi in lingua italiana la lingua che io sto parlando non è una lingua che è sempre esistita è una lingua che discende da un'altra lingua il latino qualcuno di voi magari più avanti studierà forse anche con un po di fatica e di noia anche questa lingua che nessuno parla più la parlavano gli antichi romani a un certo punto questa lingua diventa un'altra lingua e diventa la lingua che io sto parlando con voi e attraverso la quale noi ci capiamo ma questa lingua all'epoca di dante non veniva usata molto per le opere letterarie per fare questi grandi racconti che noi chiamiamo letteratura molti scrittori della sua epoca scrivevano in latino in una forma del latino tardo si dice così perché è un latino già molto diverso da quello che si parlava all'epoca di giulio cesare e invece lui decide facendo questo gesto importantissimo per noi di scrivere in italiano e scrive un poema impressionante perché è enorme sono migliaia di versi versi significa che è scritto in poesia e che ogni verso nel caso specifico ha undici sillabe oltretutto si incrociano anche le rime quindi è un lavoro enorme spaventoso da un punto di vista proprio della complessità della difficoltà lui sceglie per questo poema che si chiama appunto la divina commedia sceglie la lingua italiana la lingua che stava in qualche modo nascendo e quindi è come se lui fosse diventato il padre di questa lingua questo poema come potranno ricordarvi a memoria anche i vostri genitori comincia così nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita ai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura forse non avete capito quasi nulla però credo che abbiate avuto la sensazione che sia questa lingua che sia la lingua che parlo con voi adesso l'italiano se noi proviamo a scomporre questo inizio ci accorgiamo che tutte le parole che usa dante sono parole italiane ancora oggi utilizzate nel mezzo del cammin nel mezzo del cammino cioè a metà del cammino di nostra vita della nostra vita mi ritrovai per una selva oscura certo è un italiano antico ma che cosa sta dicendo che a metà del cammino della nostra vita cioè più o meno quando ci si trova a metà di un'esistenza per l'epoca di dante in cui si viveva molto meno oggi noi possiamo aspirare a vivere 90 100 anni i bambini come voi in realtà sono proiettati su un orizzonte di vita lunghissimo forse vivrete 120 o 130 anni a differenza magari nostra che ci fermeremo un po prima chissà comunque per dante ovviamente un uomo anziano era già un uomo che aveva 70 anni quindi lui diciamo che mette nel mezzo del cammino della sua vita questa età simbolica 35 anni quindi è come se dicesse a 35 anni mi sono ritrovato in una selva oscura che cosa è una selva è un bosco un bosco che fa paura buio appunto la selva oscura che la diritta via era smarrita perché la via diritta cioè la via che mi porta da qualche parte che si fa di cui si coglie diciamo così la direzione era stata smarrita l'avevo persa detto in altri termini mi ero perso in un bosco oscuro hai quanto a dir qual era e cosa dura dire dice è difficilissimo dire quanto sia stato impressionante trovarmi in quel bosco buio e sta selva selvaggia sarebbe questa selva selvaggia questo bosco selvaggio selvatico e aspra e forte cioè aspra nel senso che comunque qualcosa di doloroso di pauroso e forte quindi potente a qualcosa di avvolgente che nel pensiero rinnova la paura cioè solo a pensarci ho ancora paura di quello che mi è capitato allora lui va avanti per migliaia diversi a raccontarci che cosa gli è successo una giornata di aprile del 1300 si trova in questo bosco comincia a fare dei passi molto timidamente e si trova ai piedi di un colle dice così ai piedi di un colle in cima a questo colle lui subito guarda in alto ci sono tre bestie feroci e ha paura ovviamente di andare oltre ma se lui non va su quel colle non sa che cosa lo aspetta e allora per fortuna gli arriva come sostegno una specie di strano amico una sorta di amico immaginario mi verrebbe da dire in realtà è reale nello stesso tempo fantastico che è un grande poeta appunto proprio dell'epoca romana che si chiama virgilio e quando si dice sei il mio virgilio forse un'espressione che qualcuno di voi chissà ha sentito è come dire sei la mia guida perché virgilio in questo racconto sarà la guida di dante lo incoraggia gli dice non devi aver paura delle bestie feroci non devi aver paura di niente perché ci sono io e comincia questa traversata in questo bosco e poi comincia a dopo esser passato oltre quel colle a scendere progressivamente come se scivolasse lentamente dentro a un cono rovesciato pensate a un cono gelato rovesciatelo e questa è la forma del primo regno che dante attraverserà l'inferno il regno infernale e cioè lo spazio nell'immaginazione di dante che si incontra dopo la morte soprattutto però se uno non si è comportato granché bene nella vita è ovvio che è una costruzione fantastica che ha molto a che fare con la religiosità del tempo con il modo di pensare dio di pensare l'aldilà della vita però noi la prendiamo come dire come se fosse una storia fantastica come se fosse un fantasy mi verrebbe da dire forse dante non sapeva di aver scritto un fantasy ma così dobbiamo interpretarlo oppure ancora quasi per essere un po eccessivi nel nel legare questo racconto all'attualità potremmo dire che somiglia a un videogioco a livelli perché dante scendendo appunto di cerchio in cerchio perché è una un movimento circolare poi scende 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 come se conquistasse livelli andando verso il basso come poi li conquisterà andando verso l'alto perché successivamente superato il regno infernale arriverà in purgatorio che è una terra di mezzo e poi in paradiso e evidentemente ogni livello comporta una sorta di valore in più è come un punto che tu prendi che è un punto nella via della conoscenza e della comprensione del mondo ma che cosa succede a dante mentre attraversa l'inferno che vede restandone sempre spaventatissimo quali sono i castighi le punizioni a cui sono sottoposti sottoposte le anime dei cosiddetti dannati cioè di tutti quelli che nella vita hanno commesso il male e che dio questo dio in cui dante crede appunto punisce punisce eternamente la cosa più impressionante per dante sapere che queste anime non avranno mai un riscatto quella loro pena non finirà mai non è nemmeno un ergastolo come quando uno va in galera e probabilmente ci resta appunto per un bel pezzo di vita questi non usciranno mai da questa galera che è l'inferno per tutta l'eternità saranno lì resteranno lì e le loro pene sono molto dolorose commisurate al peccato che loro hanno commesso ma tutto questo proveremo poi a raccontarlo in altri passaggi per attraversare dopo l'inferno il purgatorio e poi arrivare ovviamente al paradiso che è un regno a sé molto pieno di luce dove la paura viene cancellata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti